Quando lo spoglio ormai in fase avanzata arriva il primo commento ufficiale tramite un lancio ANSA da parte di Davide Bono, candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Dice Davide Bono, quello che conta è avere 9 o 10 consiglieri per poter lavorare fin da subito per fare un'opposizione che controlli e sia propositiva per migliorare la situazione del Piemonte che è molto sofferente. Questo è il commento di Bono che riconosce anche il fatto che probabilmente sarà scavalcato dalla coalizione di centrodestra capeggiata da Gilberto Pichetto che in questo momento infatti ha 2-3 punti di vantaggio. Ci sta che una coalizione di centrodestra con 7 liste, fra cui la Lega, dice Bono, e sta avendo un buon risultato, possa avere un consenso maggiore. La vera sorpresa, però, conclude Bono, è il sostegno degli italiani a Renzi. Nessuno si aspettava un risultato così eclatante del PD che secondo noi il Paese pagherà nei prossimi mesi. Nello stesso tempo l'Ansa ha fatto orora un lancio per fare una prima analisi del voto a favore del Movimento 5 Stelle in un'area delicata come la Valle Susa, dove il tema Notav ha sicuramente indirizzato le preferenze di voto. Il Movimento 5 Stelle, secondo l'analisi dell'Ansa, pur confermandosi primo partito nella Valle e in 22 comuni su 43, si è fermato però al 32,84%, quando invece un anno fa alle politiche aveva toccato in molti comuni il 40%. Il PD, che invece è favorevole all'alta velocità, si è attestato attorno al 30,3%. Quindi non è il primo partito della Valle, ma non è molto distante da Movimento 5 Stelle. A Susa, il comune dove verrà costruita la stazione internazionale della Torino-Lione, è stata netta la prevalenza del Movimento 5 Stelle, 34,6% contro il 24% del PD. Quindi 10 punti di distacco. Quindi 10 punti di distacco.